Il portiere della Pistos Gabriel Meli è stato inserito tra i calciatori convocati ad uno stage della Nazionale Under 20 che si sta preparando ai campionati del mondo di categoria in programma il prossimo anno in Polonia. Dopo l'esperienza della scorsa stagione con Zaccagno, quindi la rappresentativa azzurra si è nuovamente tinta di arancione. Insieme a Meli nel reparto portieri è stato chiamato anche Leonardo Loria della Juventus. A guidare il gruppo quest'anno c'è il tecnico Paolo Nicolato, passato dalla panchina dell'Under 19 a quella dell'Under 20. Ad allenare Meli invece ci sarà l'ex portiere della Pistos Giammatteo Mareggini. Gli azzurrini si raduneranno domenica sera a Bagno di Romagna, lunedì e martedì svolgeranno gli allenamenti in doppia seduta e poi mercoledì ci sarà un amichevole contro il San Marino. Per quanto riguarda la Pistoese invece dopo il test contro l'Aglianese, gli arancioni saranno di nuovo in campo sabato 4 agosto alle 17, stadio di Tavarnelle contro il Sandonato. Poi l'8 agosto a Ponta Egola con il Tutto Cuoio, quindi il 12 a San Giovanni Valdarno con la San Giovannese e il 18 a Forte dei Marmi con il Real Forte Querceta. Tutte le avversarie degli arancioni partecipano al campionato di Serie D.